Credo che io e One Jesus rappresentiamo un po' quella che è la parte del calcio più esposta a questo tipo di rischio, quindi abbiamo il dovere di sostenere tutte quelle iniziative che mirano a difendere l'integrità dello sport e tutti i valori che cerchiamo e cerco anche io in prima persona di portare avanti. Quindi sono molto contento di essere qui, credo che la parte più importante sia proprio quella della formazione dei giovani che purtroppo sono ancora più a rischio perché possono essere avvicinati in modo facile, come è stato detto, da personaggi pericolosi e per ingenuità possono rischiare di cadere in questa rete dalla quale dobbiamo ricordare che è molto difficile uscire, quindi totale appoggio da parte nostra a questa iniziativa, anche disposti a partecipare se ci viene chiesto, se lo ritenete utile. Abbiamo il dovere di difendere quello che è lo sport che amiamo. Credo che per i giovani è importantissimo perché sappiamo che loro non è che c'è tanta la tv lì, la primavera, tutti, ma anche per noi, perché tutto quello che si può rovinare il calcio, perché il calcio è fatto di passione, di allegria, quindi dobbiamo tenere d'occhio tutto perché c'è un spettacolo più vero, un spettacolo più tranquillo.